Ciao a tutti e benvenuti in un altro video vlogmas, questo è il numero 10 Oggi andiamo a vedere come creare queste palline in cartone Questa è blu e celeste, viola e lilla e una più piccolina sempre blu e celeste Allora la grandezza diciamo di cerchi è a vostra scelta, infatti vedete sia piccola che grande E anche la quantità di cerchi che si vuole fare Io vi faccio vedere questa che è fatta con 3 cerchi celesti e 3 cerchi blu Questa è con 4 cerchi lilla e 4 cerchi viola Quindi la quantità di cerchi la decidete voi Ovviamente più volete questo effetto più dovete mettere cerchi Questo vedete che sotto come è come è differente la posa E ovviamente anche per questa piccola se vedete proprio che non vi si attacca bene qui sotto Mettete della vinavil, io ho usato una semplice colla stick ma su questa qui o su un'altra su non mi ricordo Ho messo della colla in il Io ne ho fatta pure una rossa e una verde mi pare E i laggetti potete usare qualsiasi filo Questo è del filo lana Per fare i ferri Questo è del semplice nastro che si trova di decorazione Comunque voi potete utilizzare quello che volete Basta avere qualcosa per fare questi qua Vi lascio al video Grazie a tutti 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 Taggatemi sul mio profilo Instagram Quello di delle creazioni ovvero il mondo di Titti Ci vediamo domani con un altro video vlogmas Sperando di riuscire a farlo Ciao Ciao a tutti